La Chiesa non si è attaccata ai soldi e al potere. Non adori la santa tangente, ma la sua forza e la sua gioia sia la parola di Gesù, così il Papa nella messa del mattino a casa Santa Marta. La gioia viene soltanto dalla fedeltà all'alleanza, detto Francesco. Sono tanti i martiri che per non entrare nello spirito di mondanità, di pensiero unico, di apostasia, soffrono e muoiono. Nell'udienza al presidente Poroshenko il Papa esprime preoccupazione per l'emergenza umanitaria in Ucraina. Con l'impegno di tutte le parti interessate e il suo auspicio siano privilegiate soluzioni politiche, piena realizzazione degli accordi di Minsk. La Chiesa esca tra la gente, non sia paralizzata, è uno dei temi del discorso del Papa ai vescovi tedeschi ricevuti in visita a Dlinna. L'imperativo attuale è la conversione pastorale, affrontare con generosità il dramma dei profughi che arrivano in Europa. I preti non sono filantropi o funzionari, ma padri e fratelli si diventa preti per stare in mezzo alla gente. L'incoraggiamento del pontefice nell'udienza ai partecipanti al convegno, una vocazione, una formazione, una missione promosso dalla congregazione per il clero. La Chiesa non deve lasciarsi sedurre dai soldi e dal potere, né adorare la santa tangente, ma la sua forza e la sua gioia devono essere la parola di Gesù. Lo ha sottolineato questa mattina Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a casa Santa Marta. Nel Vangelo di Matteo, ha commentato il pontefice, Gesù scaccia i mercanti dal tempio dicendo «Sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera, voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Come durante l'epoca dei Maccabei, lo spirito mondano aveva preso il posto dell'adorazione al Dio vivente. Ma ora questo accadeva in un'altra maniera. I capi dei sacerdoti e gli scribi avevano reso impuro il tempio. Sempre c'è nella Chiesa la tentazione della corruzione. E quando la Chiesa, invece di essere attaccata alla fedeltà, al Signore Gesù, al Signore della pace, della gioia, della salvezza, quando invece di fare questo viene attaccata ai soldi e al potere. Questo succede qui, in questo Vangelo. Questi capi dei sacerdoti, questi scribi, erano attaccati ai soldi, al potere, e avevano dimenticato lo Spirito. E per giustificarsi che erano giusti, che erano buoni, avevano cambiato lo spirito di libertà del Signore con la rigidità. E Gesù, nel capitolo ventitresimo di Matteo, parla di questa rigidità loro. La gente che aveva perso il senso di Dio, anche la capacità di gioia, anche la capacità di lode, perché non sapevano lodare Dio, perché erano attaccati ai soldi e al potere, a una forma di mondanità, come l'altro nell'Antico Testamento. e questi si sono arrabbiati. Gesù caccia via del Tempio, non i sacerdoti, i capi, gli iscrivi. Caccia via questi che facevano affari, gli affaristi nel Tempio. Ma i capi dei sacerdoti e gli iscrivi erano collegati con loro. C'era la santa tangente lì, eh? Ricevevano, eh? Di questi, attaccati ai soldi. E veneravano questa santa. Nella mattinata di oggi, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza il Presidente dell'Ucraina, il signor Petro Poroschenko, che successivamente si è incontrato con il Cardinale Parolin, segretario di Stato, accompagnato da Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati. I cordiali colloqui, riaffermando i buoni rapporti fra la Santa Sede e l'Ucraina, sono stati dedicati principalmente alle questioni connesse con la situazione di conflitto nel Paese. A riguardo, informa una nota stampa vaticana, si è condiviso l'auspicio che, con l'impegno di tutte le parti interessate, siano privilegiate soluzioni politiche, a cominciare dalla piena realizzazione degli accordi di Minsk. Al contempo si è espressa preoccupazione per le difficoltà nell'affrontare l'emergenza umanitaria, con particolare riferimento all'accesso delle organizzazioni specializzate all'area toccata dalle ostilità, all'assistenza sanitaria, allo scambio di prigionieri, nonché le ripercussioni economiche e sociali del conflitto su tutto il territorio. L'incontro è stata occasione per rilevare l'importante ruolo delle Chiese nella società, nonché il contributo delle comunità greco-cattoliche e diritto latino alla vita del Paese. Stiamo vivendo un tempo eccezionale, centinaia di migliaia di profughi sono venuti in Europa o si sono messi in marcia in cerca di rifugio dalla guerra e dalla persecuzione. Ricevendo i Vescovi tedeschi in visita ad Limina, il Pontefice ricorda l'enorme aiuto delle Chiese e dei singoli in Germania per accogliere queste persone. Nello spirito di Cristo vogliamo continuare ad affrontare la sfida del grande numero di bisognosi e far sì che le condizioni di vita nei Paesi di origine diventino più sopportabili. La Chiesa si impegna con professionalità in ambito sociale e caritativo ed è molto attiva anche nel campo scolastico ma bisogna assicurare che in queste istituzioni sia curato il profilo cattolico. Il Papa poi parla di vera erosione della fede cattolica in Germania, il calo molto forte della partecipazione alla messa domenicale, il calo delle vocazioni, la lontananza dalla vita sacramentale. Il sacramento della penitenza, nota, è spesso scomparso. Per questo, prima di tutto, bisogna superare la rassegnazione che paralizza. Non è possibile ricostruire dai relitti dei bei tempi andati ma possiamo lasciarci ispirare dalla vita dei primi cristiani come Priscilla ed Aquila, i collaboratori fedeli di San Paolo. Il pontefice segnala il rischio di una crescente istituzionalizzazione nella Chiesa. Vengono inaugurate strutture sempre nuove per le quali alla fine mancano i fedeli. Si tratta, ferma, di una sorta di nuovo pelagianesimo che ci porta a riporre la fiducia nelle strutture amministrative, nelle organizzazioni perfette. La Chiesa, però, non è un sistema chiuso che gira sempre intorno alle stesse domande e interrogativi. La Chiesa, sottolinea Francesco, è viva, si presenta agli uomini nella loro realtà, sa inquietare, sa animare e dà un volto non rigido a un corpo, il corpo di Gesù. Per questo, l'imperativo attuale è la conversione pastorale, fare in modo che le strutture della Chiesa diventino tutte più missionarie. La preziosa collaborazione dei fedeli laici, soprattutto laddove mancano le vocazioni, non può diventare, però, un surrogato del ministero sacerdotale o farlo sembrare un optional, prosegue il Papa. Senza sacerdote non c'è eucaristia. Nel contesto della nuova evangelizzazione è indispensabile che il Vescovo svolga diligentemente il suo incarico quale maestro della fede, la fede trasmessa e vissuta nella comunione viva della Chiesa universale. La vita sacramentale deve stare a cuore al Vescovo in modo particolare. Il Papa sottolinea poi l'importanza di eucaristia e confessione, confido che si darà maggiore attenzione al sacramento della penitenza e di conciliazione con cui è inizio la trasformazione di ogni singolo fedele e la riforma della Chiesa, spiega il Papa, grazie all'opportunità offerta con l'imminente giubileo straordinario della misericordia. Infine, compito del Vescovo, mai abbastanza apprezzato, è l'impegno per la vita. La Chiesa non deve stancarsi mai di essere l'avvocata della vita, non deve fare passi indietro nell'annuncio che la vita umana è proteggere incondizionatamente dal momento del concepimento fino alla morte naturale. Qui non possiamo mai fare compromessi, chiarisce il Pontefice, senza diventare noi stessi colpevoli della cultura dello scarto, purtroppo largamente diffusa. Quanto grandi sono le ferite che la nostra società deve subire per lo scarto dei più deboli e più indifesi, la vita a nascitura come pure gli anziani e i malati. Tutti noi, avverte il Papa, alla fine ne porteremo le conseguenze dolorose. Il cammino di santità di un prete inizia in seminario. Un buon prete è prima di tutto un uomo con la sua propria umanità, che conosce la propria storia, con le sue ricchezze e le sue ferite. Un uomo pacificato, per questo saprà diffondere serenità intorno a sé, anche nei momenti faticosi, trasmettendo la bellezza del rapporto col Signore. Il sacerdote che nasce dal popolo deve rimanere col popolo, si diventa preti per stare in mezzo alla gente, non per fare i professionisti della pastorale o dell'evangelizzazione e poi fare una vita separata. Sono alcune delle riflessioni rivolte dal Pontefice ai circa 500 partecipanti al convegno, una vocazione, una formazione, una missione, il cammino discepolare del presbitero, promosso dalla Congregazione per il Clero a 50 anni, dalla promulgazione dei documenti Optatam Totius e Presbiterorum Ordini. I due decreti conciliari, ricordati insieme, perché riguardano un'unica realtà, la formazione dei sacerdoti, che distinguiamo in iniziale e permanente, osserva il Pontefice, ma che costituisce un'unica esperienza di discepolato. Non si tratta di una revocazione storica. Questi due decreti sono un seme che il Concilio ha gettato nel campo della vita della Chiesa nel corso di questi cinque decenni e si sono cresciuti. Sono diventati una pianta rigogliosa, certamente con qualche foglia secca, ma soprattutto con tanti fiori e frutti che appelliscono la Chiesa di oggi. Ripercorrendo il cammino compiuto, questo convegno ha mostrato tali frutti e ha costituito un'opportuna riflessione iglesiale sul lavoro che resta da fare in questo ambito così vitale per la Chiesa. E ancora resta da fare. La vocazione al sacerdozio è un dono che Dio fa ad alcuni per il bene di tutti, ha detto il Pontefice, considerando in particolare tre aspetti di questo ministero. L'essere presi fra gli uomini, costituiti in favore degli uomini presenti in mezzo agli altri uomini, il bene che i preti possono fare spiega Francesco nasce dalla loro vicinanza e da un tenero amore per le persone non sono filantropi o funzionari i preti sono padri e fratelli. La paternità di un sacerdote fa tanto bene egli deve avere vicinanza viscere di misericordia sguardo amorevole far sperimentare la bellezza di una vita vissuta secondo il Vangelo e nel confessionale far presente l'amore di Dio che non rifiuta mai. L'amore di Dio infatti si fa concreto anche attraverso i suoi ministri. Quanto alla formazione il Papa ricorda quel fondamentale centro di pastorale vocazionale che è la famiglia chiesa domestica e primo luogo di formazione umana dove può germinare nei giovani il desiderio di una vita concepita come cammino vocazionale. È molto interessante che la nostra esperienza ci dimostra che tutti i seminaristi del mondo tutti hanno una storia personale unica però c'è un tratto comune il tratto comune che tutti quanti hanno avuto un'esperienza di interrelazione di amicizia di vicinanza con un sacerdote un sacerdote che è stato vicino alla famiglia alla propria vita alle proprie difficoltà e che hanno sperimentato un aiuto fraterno questo punto è molto importante perché la testimonianza dei sacerdoti è un punto chiave per la nascita e il sviluppo delle vocazioni e c'è un'altra parte che è molto importante che le famiglie le parrocchie i movimenti la comunità cristiana stessa veramente è la grande matrice delle vocazioni di tutte le vocazioni e quello ci fa riassicurare che Dio sta donando le vocazioni ma dobbiamo aiutare i giovani con una vicinanza molto evidente quotidiana pratica concreta a che loro scoprano la vita come vocazione e rispondano con molta libertà e con molta gioia alla vocazione che lui che il Signore ha donato a ciascuno con questo che lei dice c'è qualcosa della fraternità ma anche qualcosa della paternità come arrivare a questa maturità per potersi donare proprio il percorso di sviluppo di una vocazione è bellissima perché uno sperimenta che la chiamata di Gesù è una chiamata di conversione di sviluppo uno deve sviluppare una maturità umana spirituale apostolica e pure intellettuale affinché uno possa essere un strumento adatto e molto umano per lo stesso tempo con una sensibilità molto grande dal punto di vista spirituale pastorale con un'intelligenza che non è soltanto umana ma che tocca la sabedoria di Dio e c'è un sviluppo nella formazione iniziale e poi nella formazione permanente dei prete una delle esperienze positive che fa che un giovane entri a un seminario e poi faccia questo percorso nel seminario e poi la perseveranza dei prete è che sperimenta che la chiamata di Gesù di essere migliore in tutti gli aspetti di forma integrale per essere migliore per gli altri è una realtà Cultura della salute e dell'accoglienza una conferenza internazionale che si rivolge a tanti operatori nel campo della salute io direi a tutti gli operatori nelle diverse figure professionali del campo della salute perché tutti siamo coinvolti a ridefinire meglio il ruolo della Salus non soltanto come salute fisica ma anche come salute ecologica salute anche spirituale morale psichica e quindi trovare anche motivi di accoglienza per coloro che tutt'oggi non sono accolti in questa giustizia sociale che tutti quanti dovrebbe invece coinvolgerci parlo in particolare delle popolazioni più povere del mondo le persone che come vengono definite da Papa Francesco sono gli scarti della società e quindi anche loro hanno pieno diritto a questa accoglienza nel nome della Salus nel nome della giustizia sanitaria ieri avete incontrato il Santo Padre ecco queste parole sono state di nuovo incoraggiamento che cosa in particolare le ha colpito mi ha colpito in particolare il senso di profonda attenzione che il Santo Padre nutre per il mondo della salute il mondo dei poveri in fondo salute e poveri sono due realtà molto simili l'attenzione dicevo del Santo Padre per questa realtà che costituisce sempre dall'inizio della Chiesa uno dei campi fondamentali di evangelizzazione e quindi se noi non riusciamo ad essere attenti proprio in forza della salute ad accogliere tutti e quindi ad annunciare anche la salute fisica e con questa anche la salute spirituale credo saremo un po' arretrati rispetto a quelle che invece sono le vere urgenze di sempre della Chiesa ma in modo particolare oggi data la situazione difficile estremamente difficile che stiamo tutti quanti vivendo con Italia in particolare che impegno che difficoltà ma credo che in Italia le difficoltà siano legate a questa grave crisi economica che ancora miete vittime posso usare questa espressione miete vittime soprattutto nelle fasce più deboli fragili della nostra della popolazione italiana pensiamo non soltanto alle persone anziane ma pensiamo anche alle persone di media età che perdono il lavoro non riescono più ad essere reinserite in questi ingranaggi del mondo della produzione ma pensiamo anche a tanti bambini pensiamo che molte volte queste difficoltà dal punto di vista di un reddito congruo nelle famiglie comporta addirittura un venir meno a quel nutrimento che è opportuno proprio anche per le fasce più fragili e anche iniziali della vita umana osservatore romano di sabato 21 novembre a 50 anni dal vaticano secondo il pontefice ricorda che si diventa preti per servire in mezzo agli altri uomini e all'episcopato tedesco chiede strutture e metodi che siano più missionari il creatore si annienta davanti alla creatura l'ingresso della madre di dio nel tempio attacco jihadista nella capitale del Mali irruzione di un gruppo armato in un albergo udienza al presidente della Repubblica di Ucraina di un'albergo 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 Grazie a tutti.